Spero che tutti possano viaggiare per prendere più consapevolezza dell'altro, scoprire il diverso, cercare di aiutare e di ascoltare le altre persone, non soffermarsi sull'apparenza. Il futuro è junior. Mi chiamo Altea, ho 18 anni e il mio progetto si chiama Everyone's World ed è un videogame che serve per sensibilizzare gli studenti su ciò che accade nel mondo. E in questo caso abbia rappresentato la storia di questo ragazzo, Atsu, che è un abitante del Congo. Noi ci concentriamo principalmente sulla vita reale di una persona che abita lì e attraverso le scelte che gli studenti faranno la storia cambierà. Io ho viaggiato fin da piccola, sentire gli altri, sentire altre storie ti cambia lo sguardo nel mondo. Per me nella diversità c'è un qualcosa di speciale da mettere in luce, non da nascondere. Io penso che le generazioni passate non abbiano questa sensibilità perché non sono state appunto informate. Cioè noi adesso siamo pieni di webinar, corsi da seguire, informazioni, invece un tempo non c'era tutto questo. Mi piace la collaborazione con JIA attraverso JIA Alumni perché aiuto gli altri ragazzi a esprimere il loro talento e realizzare i loro sogni. Io credo che il futuro sia junior perché noi giovani abbiamo la forza ma soprattutto la voglia di migliorare il mondo.